Eh? Ma sì, so cristiani, lascia li perde. Siamo pronti? No, nari coi, tanto non succede niente. Sono Nerone, l'imperatore Nerone. E cari sudditi, la situazione di Roma è veramente una tragedia. C'è gente che vorrebbe da tutto il mondo per sentirmi suonare, ma come posso invitarli con la città ridotta in queste condizioni? Dovremmo poter vivere di cultura, di turismo, di arte. Quale altra città può vantare tesori come i fori, sì, la Domus Aurea, me? Ma la valorizzazione di cotanto patrimonio non è mai stata nelle corde di chi da anni regge Roma. E voi vorreste tornare a farti governare da questi bifolchi? Tutto al più potete tornare alla lira. Alla mia lira. Tutto al più potete tornare a farti governare da questi bifolchi?